Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è che Animale Totem vi accompagna in questo momento di vita, in questo progetto, in questo percorso, nel momento di vita in cui voi siete. C'è un mazzo di carte, io estrarò una carta e poi c'è una guida da leggere, quindi io andrò a leggervi quello che è il messaggio dell'animale Totem. Abbiamo tre scelte, la prima è un elefantino in resina color rosso scuro granato, la seconda scelta è questo elefantino in Giada e la terza scelta è questo elefantino in ceramica azzurro. Potete scegliere un elefante, due o anche tutti e tre, magari c'è qualche messaggio che può esservi utile. Bene, ci vediamo nella vostra scelta, a dopo! Benvenuti agli amici dell'elefantino Bordeaux. Andiamo a vedere qual è il vostro animale Totem per questo periodo. Quindi estrarò una carta di queste e poi andremo a vedere se con i tarocchi c'è qualche consiglio aggiuntivo, ok? Bene. Mostrami l'animale Totem per le persone che hanno scelto l'elefantino granato. Wow! Due animali Totem e noi li leggiamo tutti e due. Molto bene. La rana e il tacchino. Quindi andiamo adesso a vedere un attimo il significato dell'animale Totem della rana e dopo andiamo a leggere quello del tacchino. Dunque, per la rana dice Purificazione. La rana canta le canzoni che portano la pioggia e rendono la strada di terra battuta più sopportabile. La medicina della rana è simile all'energia dell'acqua e si trova ad est sulla ruota medicina. La rana ci insegna ad onorare le nostre lacrime poiché ci purificano l'anima. Tutti i riti legati all'acqua appartengono alla rana, incluse le iniziazioni tramite l'acqua. L'acqua prepara e purifica il corpo per la cerimonia sacra, è l'elemento che meglio comprendiamo nell'utero materno. La rana, come noi, è uno straniero nelle acque fetali ed impara a saltare solo dopo aver fatto esperienza del mondo della fluidità. La trasformazione in individuo adulto prepara la rana ad esercitare il potere di chiamare a sé le acque del cielo, ossia la pioggia. Conoscendo l'elemento acqua, la rana può cantare la canzone che richiama la pioggia sulla terra. Quando gli stagni sono secchi, la rana chiama gli esseri tuono per purificare la terra e colmarla d'acqua. Come alla rana, anche a noi viene chiesto di riconoscere quando è il momento di rinfrescare, purificare e ricolmare gli scrigni dell'anima. Se oggi la rana è saltata nelle tue carte, il suo gracidio sta forse evocando la purificazione di cui hai bisogno. Se dovessi cercare di capire dove sei adesso, forse useresti uno di questi termini per descrivere la tua condizione. Stanco, sovraccarico, tormentato, frustrato, incolpa, nervoso, perplesso, svuotato, indebolito. Se è così, fai una pausa e concediti un bagno nelle acque della medicina della rana. Ciò potrebbe significare un lungo bagno rilassante, staccare il telefono, urlare basta o ispirare a fondo. Il pensiero chiave è trovare il modo di sbarazzarti delle distrazioni e sostituire il fango con l'energia pulita. Quindi ricolma spirito, corpo e mente che si sono inariditi. Una delle capacità delle persone che detengono la medicina della rana è portare aiuto ed energia laddove è necessario. Un uomo medicina della rana può ripulire dalla negatività a qualunque ambiente. Molti medium o chiaroveggenti che si occupano di purificare le case infestate detengono questa medicina. Nel mondo molti veggenti si versano acqua sulle mani nel momento in cui bussano agli altri regni della realtà. E questo perché l'acqua è un superconduttore. Nelle pratiche sciamaniche dei Maya e degli Aztechi, lo sciamano si mette dell'acqua in bocca e poi la spruzza sul corpo del paziente per ripulirlo dalle energie negative. Tutto ciò tenendo bene a mente il pensiero della rana affinché la guarigione possa avvenire ed il paziente possa essere colmato di nuovo dell'energia positiva. Talvolta rane essiccate e imbalsamate vengono usate per custodire il corpo della persona durante la seduta. La rana parla di nuova vita e armonia. Nella sua canzone della pioggia si dice che i toni profondi del suo gracidare richiamino gli esseri del tuono, il tuono, il lampo, la pioggia. Il cracra è il battito del cuore che entra in armonia con padre cielo e gli chiede di colmarci di nuovo del necessario. Chiamate la rana e troverai la pace nella gioia di dedicare del tempo a te stesso. Una parte di questo tempo che ti regali è per purificarti da ogni persona, luogo o cosa che non contribuisce al tuo nuovo stato di serenità e di pienezza. Bel messaggio quello della rana, quindi fase di purificazione, fase di purga sento proprio, no? L'acqua è anche un po' l'elemento che si usa per fare il battesimo, no? Si usa proprio per pulire anche in quel rito lì. Bene, è ora di andare a vedere il nostro amico Tacchino. Quindi, la carta del Tacchino dice generosità. Si pensa davvero che il Tacchino sia l'aquila che dà o l'aquila del sud di molte popolazioni native. La filosofia del dare fu praticata da molte tribù. In parole povere si tratta del riconoscimento profondo e costante dei propri sacrifici e di quelli degli altri. La gente nella società odierna ha a disposizione molto più di quanto necessita. Dovrebbe studiare il nobile Tacchino che sacrifica se stesso affinché noi possiamo vivere. Nella morte del Tacchino c'è la nostra vita. Onoriamo il Tacchino. Gli spettatori che non hanno familiarità con il fenomeno culturale della cerimonia indiana della distribuzione di doni, detta del chiavistello della pentola, ne sono spesso sconcertati. Un membro della tribù potrebbe felicemente dar via tutto quello che possiede e farne senza in modo da aiutare la tribù. Nella vita urbana, ai giorni nostri, ci viene insegnato ad acquistare cose e ad avere successo. Chi ha più giocattoli vince la partita. In alcune culture nessuno può vincere la partita fino a quando i bisogni dell'intera comunità non vengono soddisfatti. Uno che chiede più di quanto dà è visto come un egoista o un pazzo o entrambe le cose. Il povero, l'anziano, il debole sono rispettati. La persona che dà via più degli altri e porta i fardelli della comunità è una delle più rispettate. Il Tacchino era la medicina di molti santi e mistici. Se hai la medicina del Tacchino, fa festa, perché le tue virtù sono molte. Tu hai trasceso l'ego e agisci e reagisci per il bene degli altri. Tu aspiri ad aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto. Questo non deriva da un certo senso di moralismo, di autogiustizia o colpevolizzazione religiosa. Il Tacchino dà aiuto e sostegno perché ha realizzato che tutta la vita è sacra. Sa che il grande spirito risiede all'interno di ogni persona. Sa che fare qualcosa per gli altri equivale a farlo per se stessi. La medicina del Tacchino sta nel vero sé, nell'illuminazione. Fare per gli altri e nutrire la gente è il messaggio di tutti i veri sistemi spirituali. A seconda di come il Tacchino si presenta nelle tue carte, ti verrà fatto un regalo. Potrebbe essere di natura spirituale, materiale o persino intellettuale. Potrà essere grande o piccolo, ma mai insignificante. Congratulazioni! Forse hai appena vinto la lotteria, oppure il dono potrebbe essere un bel tramonto o il profumo fragrante di un fiore. D'altra parte può essere che tu senta lo spirito della generosità crescere dentro di te e voler condividere con gli altri ciò che possiedi. Bellissima carta anche questa, parla di condivisione, parla di quello che è l'essere generosi, nutrire gli altri in modo che poi la cosa sia retroalimentativa. Bellissimo messaggio, devo dire. Bene, andiamo a vedere se con i tarocchi riesco a darvi qualche consiglio in più, qualche messaggio in più da darvi. Visto che siamo in questa fase di purificazione e di generosità, di condivisione, io direi anche. Magari perché no, per qualcuno potrebbe essere condividere il proprio stato di purificazione, ok? Vi ricordo che comunque è il pianto purga, no? E potrebbe anche essere generoso da parte vostra a spiegare, raccontare il come avete superato voi la vostra difficoltà, perché anche questo aiuta gli altri. Andiamo a vedere. Ancora un messaggio per gli amici dell'elefante granato, per piacere, grazie. Ok, abbiamo un 3 di pentacoli, un 9 di pentacoli e un re di spade. Sì, in qualche modo sento che questa sorta di purificazione, questa sorta di, se vogliamo anche generosità, ok, è anche riferita a voi stessi, perché comunque avete un bellissimo 9 di pentacoli, parla di amor proprio. State proprio facendo un lavoro, sento, di riconoscimento di quello che il vostro valore, state purgando quello che non è più vostro, quello che non vi fa più bene e state diventando, perché comunque la generosità parte dal cuore, parte dal fatto che uno apra proprio il cuore, no? E qui sento che state mettendo in ordine quelle che sono le vostre priorità, quello che sono i vostri valori. Ok, sento che c'è un rinnovato amor proprio, questa purga di cui parla la rana vi sta facendo bene questa cerimonia di purificazione, diciamo questo momento di pulizia, ecco. Ok, bene, voglio un'altra carta da parte di questo oracolo. Andiamo a vedere che altro messaggio vi danno. Ancora una carta, riflessione o riflesso. Dovete guardare, riflesso, dovete guardare tutti gli aspetti di voi stessi attraverso un riflesso, di uno specchio dei vostri più, del vostro sé nascosto. Ok, quindi probabilmente questo lavoro di purificazione che state facendo passa anche attraverso quello che è il vedersi proiettati in uno specchio. Quindi, diciamo, serve ad aiutare quelle che sono le vostre proiezioni. Bene, cari amici dell'elefantino, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like al video, potete iscrivervi e potete condividere. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ed eccoci con la seconda lettura, quella dell'elefantino di Giadaverde. Andiamo a vedere che tipo di messaggio hanno per voi. Allora, io estrarò una carta da queste carte medicina e poi andrò a leggere la guida. Dopodiché estrarò anche qualche carta dal mazzo dei tarocchi per vedere se c'è qualche messaggio aggiuntivo e un oracolo in chiusura, ok? Bene. Mostrami l'animale totem per le persone che hanno scelto l'elefantino di Giadaverde per questo periodo. Il topo! Wow! Andiamo a vedere subito di che cosa ci parla l'energia del topo. Dunque, il topo parla di meticolosità. Il topo dice, toccherò ogni cosa con i miei baffi per poterla conoscere. Paradossalmente questo è un grande potere ma ha anche una grande debolezza. È una buona medicina da osservare da vicino, il prestare attenzione ai dettagli, ma è una cattiva medicina spaccare il capello in quattro. Quindi è un po' come se volessi dire, va bene guardare da vicino ma non troppo. Il topo ha molti nemici predatori, compresi uccelli, serpenti e gatti. Essendo cibo per molti, egli possiede un senso del pericolo altamente sviluppato, che entra in azione ad ogni svolta. La cosiddetta civiltà è una serie altamente complessa di componenti che richiedono capacità organizzative sempre maggiori. È un'attenta analisi ricorrente, sicché la medicina del topo è un potente strumento in questi tempi moderni. Cose che potrebbero sembrare insignificanti agli altri assumono per il topo un'enorme importanza. I detentori della medicina del topo mandano in collera molte altre persone che possiedono altre medicine, perché essi sembrano pignoli. Un topo riuscirà ad individuare un pelo sul tuo cappotto, anche se questo è perfettamente mimetizzato con il colore del tessuto, oppure cercherà di convincerti che il compito più semplice sia irto di difficoltà. I topi hanno la fissa della metodologia, scelgono, etichettano e archimiano tutto per farne uso in futuro. Possono sembrare dei tipi che tendono ad ammassare, ma questa idea è lontanissima dalla mente del topo. Stanno semplicemente mettendo ogni cosa in ordine, in modo da poter procedere ad un più attento esame in un secondo tempo. I capi ci dicono che senza il topo la conoscenza non verrebbe mai organizzata. Al topo si deve la fine del rinascimento e l'aver ritrovato le tracce della specializzazione. Il topo sapeva sin dall'inizio che c'è sempre qualcos'altro da imparare e che si può approfondire ogni argomento sempre di più. Se detieni personalmente la medicina del topo potresti avere timore della vita, ma essere molto ben organizzato, avendo assegnato un posto per ogni cosa. Dovresti cercare di avere un quadro più ampio di quello che ti sta sotto il naso. Sviluppa la munificenza, cerca di diventare consapevole della grande danza della vita e renditi conto che anche se te ne stai seduto a Los Angeles, a New York c'è una luna, un sistema solare, una galassia ed un infinito universo. Salta in alto, piccolo amico, e vedrai uno scorcio della montagna sacra. Se la carta del topo si trova nella tua configurazione, la sua medicina ti sta dicendo di scrutare te stesso e gli altri molto attentamente. Può darsi che quella fettona di formaggio appoggi su una levetta che farà scattare una trappola mortale, o forse il gatto sta nella dispensa in agguato. Può darsi che qualcuno al quale hai delegato qualcosa, forse un dottore, un avvocato, magari l'idraulico, non stia facendo il suo lavoro onestamente. Il messaggio è vedere ciò che è giusto ai tuoi occhi e agire di conseguenza. Bellissimo messaggio quello del topo, quindi mi parla di attenzione ai dettagli, mi parla di attenzione anche alle persone che stanno intorno. Vediamo se con i tarocchi c'è qualche altro messaggio da aggiungere. Allora, abbiamo un cavaliere di denari e un tre di coppe. Ecco, quindi qui sento che potrebbe esserci per qualcuno riferimento a quello che sono le amicizie, perché comunque il tre di coppe fa riferimento proprio a quello che sono le amicizie, a quello che sono, se vogliamo, gli incontri, i re incontri, ok? Potrebbe fare riferimento a qualcuno che torna dal passato, vi dico, ma non per tutti è così. Comunque, essendoci un cavaliere di pentacoli, potrebbe essere che sia una persona che cerca in qualche modo di creare un'amicizia con voi, che sia un qualche tipo di energia che procede in modo molto lento, ok? Anche il topo comunque ha in un certo senso questa scansione temporale di lentezza, ok? Però comunque potrebbe fare riferimento proprio a quello al tenere d'occhio una situazione magari tra amici, potrebbe essere una situazione all'interno di un gruppo anche, ok? Quindi osservate. Bene, andiamo a vedere un altro messaggio da parte di questi oracoli, vediamo cosa hanno da dirvi in chiusura per aiutarvi. Gratitudine. Wow, che bello! L'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. Quindi per certi versi sento che questo osservare di cui parla il topo vi metterà anche in grado, vi renderà diciamo così consapevoli di tutto quello che avete intorno, che potrebbe proprio anche essere questo bellissimo rapporto di amicizia del quale parlavamo prima, o comunque di quelli che sono i rapporti affettivi che voi avete, ok? Bene cari amici, questo è quello che ho per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, ho trovato molto carino questo mazzo e ho pensato di proporlo. Vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Proseguiamo con la scelta numero 3, ovvero questo elefantino in ceramica. Andrò a estrarre una carta dal mazzo delle carte medicina e poi leggerò il significato sul libro corrispondente e poi andremo a vedere se mi danno qualche tarocco, qualche carta dei tarocchi per vedere qual è il messaggio aggiuntivo che vi posso dare. Si conclude poi con quello che è un messaggio da parte degli oracoli. Bene. Mostrami l'animale totem per le persone che hanno scelto, grazie, lucertola. Wow! Andiamo a vedere di che cosa vi parla la lucertola. Dunque, intanto per cominciare la lucertola è un rettile che si scalda al sole. Mi parla di sogno e dice La lucertola se ne stava mollemente sdraiata all'ombra di una grande roccia, riparandosi dal sole del deserto. Il serpente avanzò strisciando, cercando un poco d'ombra per rinfrescare e riposare. Il serpente guardò la lucertola per un attimo, dal momento che i bulbi oculari della lucertola si muovevano dietro le enormi palpebre chiuse. Il serpente sibilò per richiamare l'attenzione della lucertola. Lentamente i suoi occhi sognanti si aprirono e la lucertola vide il serpente. Serpente, mi hai spaventata, che cosa vuoi? esclamò. Il serpente sputo fuori la risposta con la sua lingua biforcuta. Lucertola, tu ti prendi sempre i posti migliori nella calura del giorno. Questa è l'unica grande roccia per miglia e miglia. Perché non dividi l'ombra con me? La lucertola ci pensò un momento, poi acconsentì. Serpente, puoi dividere con me il mio posto all'ombra, ma devi startene dall'altra parte della roccia e promettere di non interrompermi. Il serpente era seccato e si bilò. Che fastidio posso darti? Tutto ciò che stai facendo è dormire. La lucertola sorrise con l'aria di chi la sa lunga. Oh serpente, che stupido sei. Non sto dormendo, sto sognando. Il serpente volle sapere quale fosse la differenza. Così la lucertola gliela spiegò. Sognare è andare nel futuro, serpente. Io vado dove vive il futuro. Vedi? Ecco perché io so che tu non mi vuoi mangiare oggi. Ti ho sognato e so che ti sei riempito la pancia con il topo. Il serpente era sbalordito. Come hai fatto, lucertola? Hai perfettamente ragione. Mi stavo giusto domandando come mai avessi accettato di dividere la tua roccia con me. La lucertola rise. Serpente, disse, tu stai cercando un po' d'ombra e io sto cercando l'ombra. L'ombra è il luogo dove vivono i sogni. La medicina della lucertola è il lato in ombra della realtà, dove i tuoi sogni vengono riesaminati prima che tu decida di manifestarli fisicamente. La lucertola avrebbe potuto creare l'evento di essere mangiata dal serpente, se così avesse desiderato. La lucertola è la medicina dei sognatori. Sia che ti mandino messaggi di fumo, sia che compagnano nei tuoi sogni, i sognatori possono sempre aiutarti a vedere l'ombra. Quest'ombra possono essere le tue paure, le tue speranze o la cosa a cui stai resistendo, ma che comunque ti segue sempre, come un cane obbediente. Se la lucertola ha sognato un posto nelle tue carte oggi, può essere il momento di guardare e vedere cosa ti segue. Sono le tue paure? Il tuo futuro che sta cercando di raggiungerti? O è la parte di te che vuole ignorare la tua debolezza e la tua umanità? Forse la lucertola ti sta dicendo di prestare attenzione ai tuoi sogni e dai loro simboli. Scrivi un giornale di bordo dei sogni e annota tutto ciò che ricordi. Sì, certo di fare attenzione ad ogni single simbolo o modello ricorrente. Se non ti ricordi i sogni, potresti provare a fissare la radiosveglia alle due o alle tre di notte, o bere moltissima acqua prima di coricarti, in modo che sia la tua viscica a svegliarti. I sogni sono molto importanti, presta loro attenzione. Bene, quindi la carta della lucertola mi fa pensare a quello che è, se vogliamo, anche la propria proiezione dei sogni. Quindi al momento in cui uno si mette proprio a visualizzare un qualche tipo di sogno per dargli forma, per concretizzarlo. Andiamo a vedere cos'altro mi dicono i tarocchi per voi, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Ecco, abbiamo un fante di coppe, ok, abbiamo, wow, abbiamo un fante di coppe, abbiamo la luna, abbiamo il karma e il tra di spade. Sì, quello che qui sento è andare al futuro, ma in questo senso, visto che c'è la carta della luna e la carta del karma, sento che in qualche modo vuol dire andare in profondità. Abbiamo un fante di coppe, parla di quello che è una sorta di emotività o meglio di immaturità emotiva, perché è un fante. Quindi per qualcuno il fatto di sognare qualche cosa fa riferimento a quello che si proietta, visto che c'è anche la carta della luna, appunto, ok? Per certi versi abbiamo la carta del karma, abbiamo che è una carta di risveglio, è una carta di... è come se qui ci fosse qualcuno che si risvegliasse da un sogno, per certi versi, ok? Quindi può essere vista in ambedue, in ambedue i casi. Come diceva il messaggio del libro, fate attenzione ai sogni, scrivetevi lì se siete persone che non... che magari tendete a non ricordarvi i sogni e cercate poi di creare quello che è un risveglio, se vogliamo, spirituale, cosciente attraverso quello che è la lettura dei simboli di questi sogni, ok? Potrebbero anche illuminarvi per quello che riguarda un qualche tipo di dolore che avete in questo momento. Andiamo a vedere un messaggio in chiusura, abbiamo... zero limiti. Non limitatevi. Siete stati dotati di un potenziale illimitato. Guardate, viene proprio fuori con la carta dei sogni, perché chi è... se siete capaci di sognare qualcosa, di visualizzare qualcosa, lo potete creare, perché il pensiero crea, la parola crea. Quindi non avere limiti nel pensare, ok? Vi dà un sacco di opportunità di sviluppare determinati sogni, appunto. E questa carta dice che c'è così tanto ancora da condividere. Bellissima lettura. Bene, cari amici dell'Elafantino Blu, questo è quello che avevo per voi. Io spero davvero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!